Sono Matilde Ceron, candidato sindaco per la lista I Rago Rago di Tutti. Il motivo per cui mi sono candidata in due parole è quello di rendere la nostra comunità una comunità più inclusiva e coesa. È proprio per questo che alla base e come primo punto del nostro programma c'è la partecipazione, ovvero il coinvolgimento della cittadinanza sia come singoli sia come realtà associative, tutti gli enti che si spendono ogni giorno per la nostra comunità, nella progettazione dell'azione amministrativa. Questo secondo noi non può che essere la base per fare bene e rispondere al meglio ai bisogni di I Rago Conorago con appunto il contributo di tutti. Poi chiaramente la seconda priorità del nostro programma è quella del sociale. nel sostegno sia a tutti i servizi di cura, quindi sia rivolti ai più piccoli, sia rivolti agli anziani e alle fragilità in generale. Secondo noi è fondamentale per permettere in primo luogo alle famiglie di conciliare le responsabilità di cura con gli impegni lavorativi e in secondo luogo ad avere una comunità che è davvero di tutti. Proprio per questo vi chiediamo il vostro sostegno per lavorare tutti insieme per costruire la I Rago Conorago di tutti.